Lo scopo di avere un banco bar organizzato ed ergonomico è quello di essere più efficiente e quindi di massimizzare le vendite. Sempre tornando al discorso della postazione da caffè espresso o coffee station, possiamo definirla, l'importante è che il barista abbia tutte le strumentazioni, tazzine, tazze, piattini, lattiere, macinino, macchina, tutte a breve distanza, in modo da compiere solo le operazioni essenziali al fine di servire il prodotto finito. Un esempio particolare può essere quello che oggi è molto in voga in tutto il mondo, uno strumento che di solito si piazza di fianco alla macchina da caffè espresso si chiama rinser, una piccola bacinella con all'interno un oggetto che spruzza dell'acqua nel momento in cui la lattiera viene posizionata sullo stesso, un po' come lo sciacquo a bicchieri che si usa nei pub per lavare i bicchieri della birra. Questo strumento ci permette di avere la lattiera sempre pulita, quindi senza incrostazioni che alla fine inequivocabilmente si formano, quindi la cosiddetta pietra di latte che va a rivestire la lattiera. Ecco, usando questo strumento noi possiamo sciacquare, lavare la lattiera all'interno dopo ogni preparazione e lasciarla scolare sullo stesso. Grazie. 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 Grazie.